Il campo nazionale qui a Norcia si occupa principalmente di dare sopporto mensa alla popolazione, facciamo circa 700 pasti al giorno, però non abbiamo nessun tipo di residente che per notte. Il per notte è solo esclusivamente dei volontari necessari per l'utilizzo del campo. Questa settimana abbiamo avuto una bella strida di freddo, le temperature la notte calano fino anche a meno 8 e quindi ci siamo dovuti operare sia per scaldare le tende, le tende su strutture in maniera più adeguata, sia per proteggere tutte le attrezzature presenti.